Nuova settimana, nuovo mercato nero di Maurice. Questa settimana ci troviamo alla Pire of Stars e il mercato nero di Maurice è veramente molto lontano. Vediamo il percorso. Vi ricordo di iscrivervi per non perdervi il mercato nero di Maurice quando, come ogni settimana, cambierà posizione e contenuto la prossima volta. Inoltre, se volete supportarmi, è attiva la funzione abbonamenti di questo canale a un prezzo ridottissimo. Per quanto riguarda il percorso è relativamente facile ma lungo. Dovete attraversare praticamente metà della Pire of Stars qui su Necrotafeio per poi arrivare alla zona dove spawn Anni Seras con le piattaforme. In basso a sinistra troverete il mercato nero. Eccoci arrivati. Questa settimana nel mercato nero di Maurice troveremo il lanciaralgi leggendario Jericho. Uno schifo totale. Non prendetelo. L'assalto leggendario Mohr Embrace the Pain. Pessimo. E infine lo scudo leggendario Front Loader. Non un granché buono solo in build come ad esempio Infinimoso.